La settimana è stata come tutte le altre, abbiamo fatto lavoro fisico, stiamo finendo di preparare la partita contro il Corticella, che ovviamente gioca in un modo completamente diverso dal fan full e perciò non sappiamo le difficoltà che andremo ad affrontare domenica contro una squadra che gioca da tanti anni insieme, è una squadra che gioca bene, propositiva, con individualità importanti, ma questo capita tutte le domeniche, sappiamo la complessità del campionato e ovviamente bisogna prepararsi nei migliori dei modi. Non ci sono indisponibili, a parte Remedi, che deve scontare ancora la squadifica, contro il fan full ovviamente la differenza l'ha fatto, la capacità di stare per 95 minuti dentro la partita, consapevoli delle difficoltà che ci metteva davanti la partita, affrontavamo una squadra che non aveva mai perso in trasferta e questa è radice lunga sul fatto che è una squadra molto organizzata, una squadra che ti dà pochi spazi e la differenza l'ha fatto anche il fatto di volerla vincere in tutti i modi. Grazie. Grazie. Grazie.